Questa è la hot pot. Come si chiama Gabriele? Hot pot. Metà è piccante, metà è normale, dentro ci va tutto. E l'altra metà pure. E l'altra? La metà è piccante, una metà è normale, l'altra metà è un po' meno piccante, l'altra metà è ancora di più. Bene, 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 questa è la tavola.